Devo fare veramente i complimenti ai miei due amici Cadotti e Trischitta perché hanno realizzato uno spettacolo veramente fantastico, con degli attori meravigliosi, ma soprattutto con un pensiero e un concetto espresso in modo chiaro e forte, profondo, di amore e di pace e di rispetto nei confronti del prossimo, che sono i valori fondanti della vita sociale.